Ciao a tutti ragazzi sono Orkoverde, in questo video vi farò vedere una nuovissima funny glitch per catapultarsi in aria nella sessione, questa volta con un veicolo. Per fare questo funny glitch vi consiglio di recarvi dove sono io, ovvero all'aeroporto dove c'è tanto spazio, così che farete questo funny glitch più facilmente. Inoltre dovete avere un carro armato e dovete avere un insurgente pick up. Chi si catapulterà in aria dovrà salire sull'insurgente pick up, mentre l'amico che vi aiuta dovrà salire sul rino, ovvero il carro armato. A questo punto dovete essere lontani l'uno con l'altro, il vostro amico sul carro armato dovrà tenere la visuale puntata verso destra, in modo che il cannone del carro armato sarà appunto verso destra. Inoltre il vostro amico non dovrà nemmeno avere la visuale né troppo bassa né troppo alta, se no il cannone del carro armato si alzerà e si abbasserà e il funny glitch farà fatica a funzionare. Dovete tenere il cannone del carro armato a mezza altezza insomma. Una volta fatto ciò dovete accelerare entrambi, sia la persona che sta guidando l'insurgente pick up, sia quello che sta guidando il rino. A questo punto quello che sta facendo il funny glitch sopra l'insurgente pick up a più velocità possibile, dovrà schiantarsi contro il cannone del carro armato che sta guidando il vostro amico. A questo punto se il funny glitch uscirà correttamente sarete catapultati in aria sopra l'insurgente pick up. Delle volte farete dei voli assurdi, delle volte un po' meno, ma è sempre un ottimo funny glitch per divertirsi in sessione e passare un po' del tempo con i propri amici. Comunque se ragazzi questo è il funny glitch, non so se funziona per le 3 console, a limite testatelo su old gen e scrivete fra i commenti se vi ha funzionato su playstation 3 e xbox 360. Inoltre non so nemmeno se questo funny glitch funziona con un altro veicolo, anziché l'insurgente pick up. Del carro armato avete sempre bisogno, ma non so se funziona con un altro veicolo che non sia l'insurgente pick up. Niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video sui social network. E da Orkover è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella! Ciao! Ciao! Ciao!